Presidente, l'estate è praticamente ufficialmente partita e quindi il tema della risorsa idrica in primo piano. Come sta il bacino di Ridracoli e cosa ci aspettiamo per questa stagione? Quest'anno possiamo dare un messaggio rassicurante, ovviamente perché siamo partiti con la diga piena dall'inizio dell'anno e attualmente abbiamo 555 metri sul livello del mare come quota invaso rispetto ai 557 di trascimazione di riempimento quota a 33 milioni di metri cubi, quindi ne abbiamo 31 milioni. Quindi quando solitamente in primavera o all'inizio dell'estate abbiamo la diga piena, tenuto conto che il 2017 è stato un anno siccitoso, abbiamo avuto più turisti in riviera e abbiamo avuto anche più consumi, nonostante le ordinanze dei sindaci, oltre 115 milioni di metri cubi, quando in passato ne avevamo 110 milioni di metri cubi e abbiamo avuto una diga di Ridracoli che ha dato su base anno a 10 milioni di metri cubi in meno, quindi 46 rispetto ai 52 o 56 delle annate passate. Per cui quest'anno possiamo dire che abbiamo sicuramente la garanzia di riuscire ad arrivare a fine anno in piena tranquillità senza ovviamente nessun patema. Possiamo dire sempre alla cittadinanza però di utilizzare l'acqua con criterio, con i giusti criteri. Sì, noi abbiamo sempre raccomandato responsabilità e ovviamente di evitare gli sprechi perché l'acqua è una risorsa importante finita e i consumi è bene ovviamente anche degli altri servizi domestici utilizzarli con criterio senza abusarne. Penso che diciamo sia un elemento d'attenzione non solo per il risparmio idrico ma anche per il risparmio economico delle famiglie.